Il gruppo cooperativo Goel ha come scopo il riscatto della Calabria, noi vogliamo una Calabria nuova. La Calabria nuova non può perdere le sue energie migliori, le sue intelligenze migliori. Ci sono tanti giovani che non sentendosi valorizzati in un coacervo di clientelismo, raccomandazioni, appartenenze di potere, alla fine avviliti vanno via, esasperati dal fatto che nessuno li ha apprezzati veramente. Campus Goel è l'idea che Goel, con le sue 11 imprese sociali, 25 aziende di altro tipo, con un sistema di servizi di sviluppo imprenditoriale che ha collaudato con iniziative importanti come i cangiari, si metta a disposizione di questi giovani, li prenda per mano, li accompagni passo passo nella realizzazione della loro idea, della loro impresa, che però deve essere un'idea etica ed innovativa, un'idea che viene realizzata in Calabria, rigorosamente in Calabria, e tutto questo lo riusciamo a fare anche grazie a questo progetto che è sostenuto da Fondazione Vodafone Italia. Grazie